La strega di Chesterfield. Nei pressi della cittadina di Chesterfield, negli Stati Uniti d'America, c'è un piccolo cimitero. C'è una tomba particolare ad attirare l'attenzione di molti. Una tomba è nascosta da un albero di notevoli dimensioni. La tomba che si trova al di sotto è quella della famosa strega di Chesterfield. È una storia che si narra da generazione a generazione. Fin dal 1600 Lucy era una bambina molto vivace e spesso veniva messa in punizione dagli anziani. La tensione aumentò in pochi anni. Quando Lucy protestò molto vivacemente con gli anziani della cittadina su come gli uomini trattassero male le proprie mogli. Dopo queste affermazioni quasi tutto il villaggio etichettò gli Lucy come una strega. Gli anziani amici del villaggio l'allontararono. Poco dopo la fanciulla venne trovata morta e fu seppellita sotto un grande albero in modo da intrapponarle l'anima, così dicevano gli amici. tutti gli anziani dopo la sepoltura avevano avuto degli incoli. Sognavano demoni, diavoli e i sabba delle streme. C'è chi vedeva strani luci nei pressi della tomba. Successivamente l'albero fu recintato. A tutt'oggi la tomba è visibile, ma sul grande albero ora c'è un grande taglio trasversale. Sembra come se lo spirito della fanciulla ribelle si sia liberato. Almeno così dicono gli amici del luogo. Durante il plenino apparirebbe una fanciulla. Con molta probabilità sarebbe proprio la piccola Lucy. La comunità amici non vuole abbattere l'albero perché secondo le credenze questo potrà più contenere la rabbia di Lucy che si abbatterebbe sul villaggio circostante. Iscriviti al canale e condividi i video agli amici. Attiva le notifiche per essere aggiornato sui nuovi video.